Quali sono state le difficoltà in questa gara? Innanzitutto se questa gara ti è piaciuta, ti ha esaltato. Sì, certo, mi ha colpito molto questa gara e le emozioni che prevalevano e il pianto. Adesso quali sono i tuoi progetti futuri? Perché partecipare al campionato europeo? Per adesso continuerò a lavorare nel nostro lavoro che è il Palazzo Ravini. E poi per il futuro si vedrà. Ha avuto modo di vedere tanti ragazzi all'opera? Cosa l'ha colpita? Del loro entusiasmo, ad esempio? Beh, intanto la loro determinazione sicuramente. La loro voglia di imparare e la loro voglia di mettersi in gioco. Perché comunque è quello importantissimo. Qual è quindi il segreto per avere poi successo anche in futuro? Quale consiglio si sente di dare loro? Fare tesoro di tutte le esperienze, questa soprattutto dove le ha messi di fronte a delle prove di eccellenza.